Penso di interpretare anche il pensiero non solo dei colleghi qui, ma di tutti. Caro Fabio, oggi la notizia sei un po' anche tu, no? Mio malgrado, devo dire la verità un pochino. Allora, lasciaci dire che il fatto che tu lasci la RAI è una gravissima perdita per il servizio pubblico. E' un grande, grandissimo errore editoriale. Dopodiché, grazie e tantissimo. Allora, facciamo così, ci togliamo il pensiero. Intanto vi ringrazio, vi ringrazio. Diciamo così, io sono in RAI da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Diciamo che non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni, almeno io non credo di esserlo. E quindi con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, fatto di novità e spero di invenzione, di creatività. Ne sono anzi sicuro. Però io qui ho trascorso 40 anni. E questo lo dico perché con l'occasione voglio davvero ringraziare tutte le persone, migliaia di persone che ho incontrato in questi 40 anni con cui ho lavorato e da cui soprattutto ho imparato. Avevo 18 anni quando ho cominciato. E questo lo dico perché io non posso che avere gratitudine nei confronti della RAI, anche perché se dicessi mai e non accadrà qualcosa di scortese è come se lo dicessi contro di me. La RAI ha 70 anni e di questi 70 anni 40 li ha trascorsi con me e io con lei. E quindi siamo in qualche modo la stessa cosa. Per questo approfitto e dico un grazie sincero a tutti e grazie al pubblico che comunque ci ritroveremo altrove, ma ci ritroveremo. Grazie.